E cosa è prioritario fare oggi per supportare la cultura dell'integrità in Italia? Premetto che la cultura dell'integrità è per noi di Transparency International uno dei valori fondanti della nostra associazione. Transparency International Italia è un'associazione del terzo settore che opera come capitolo nazionale nell'ambito di un network internazionale nato 30 anni fa e che oggi costa di ben 100 nazioni in tutto il mondo. In Italia siamo impegnati dal 1996 a diffondere i principi dell'etica e della trasparenza per combattere i fenomeni corruttivi in ogni loro forma. Per prima cosa crediamo fermamente che occorra partire dall'educazione delle scuole, partecipare insieme agli studenti, costruire modelli di comportamento etico, codici di comportamento, buone pratiche di trasparenza e integrità ed implementarli sul campo una delle nostre priorità. Lavoriamo per questo ogni giorno affinché l'educazione e i valori dell'integrità si è riconosciuta come priorità a livello nazionale. Uscendo dal campo educativo riteniamo che tutti gli strumenti atti di rinforzare la trasparenza nelle relazioni, sia lavorative che nel rapporto con le istituzioni, siano importanti. Da questo punto di vista un governo aperto rappresenta un'occasione di incontro fondamentale per far crescere la consapevolezza del cittadino su quanto le istituzioni siano impegnate a diffondere trasparenza e integrità, mettendole come punti prioritarie nella loro agenda di governo.